Ciao a tutti ragazzi, sono Tyler e bentornati alla serie più spietata del web Rimorchiare le vostre ragazze fidanzate Ogni giorno tantissime coppie si affidano a me, mi arrivano tantissime richieste d'aiuto, missioni E oggi andiamo a leggerne una che mi ha particolarmente colpito La mia ragazza sui social si comporta come se io non esistessi Non mi tagga mai, nessuna foto insieme Però si fa sempre fotografare da me e portare in qualsiasi posto le viene in mente Magari New York No vabbè basta Vorrei sapere se sta con me perché mi ama o perché sto facendo il suo schiavetto Stiamo insieme da 4 mesi ma non ne posso più, ti prego aiuta un tuo seguace veneto Sono disposto anche a pagarti Caro compagno di campagne venete, tieni pure i tuoi soldi Mi sa che ti serviranno per mantenere la tua queen La prima domanda che mi viene da fare è Ma lei sa di essere la tua ragazza o non vi siete messi d'accordo? No perché a volte capita In comprensione a parte come prima cosa andiamo a preparare il profilo fake Che ci aiuterà a rimorchiare, ad approcciare questa fidanzata non perfetta Come prima cosa prepariamo il profilo fake adatto ad approcciare, a rimorchiare la ragazza in questione Allora stavolta non troppi follower perché magari potremmo mettere il sospetto Mettiamo la foto di un tizio bellino, un tizio carino che potrebbe attirare questa signorina Speriamo di no però potrebbe attirare E aggiungiamo anche qualche storia, qualche foto a caso di Gucci, cose costose per far vedere che abbiamo il cash Che è sempre un aiutino abbiamo visto anche negli ultimi video Dopodiché stalkeriamo la nostra vittima e vediamo se c'è il modo di attaccare il bottone Di solito la parte più difficile è sempre trovare un modo giusto per penetrare nei messaggi privati delle ragazze Bisogna stare attenti purtroppo bisogna stare un po' attivi sui loro profili E saper cogliere le occasioni adatte Prima di andare avanti però ragazzi vi presento lo sponsor di oggi che è fondamentale È l'emblema NordVPN È un servizio che gli internauti, la gente dell'internet un po' più esperta come me ma neanche troppo Dovrebbero conoscere davvero bene Il VPN ci permette di navigare sull'internet in maniera totalmente protetta Mi raccomando ragazzi fatelo sempre safe, sempre con le precauzioni In questa categoria NordVPN è veramente tra i migliori che offre questo servizio Vi offre diverse funzioni utilissime per citarne alcune La navigazione codificata in totale, anonimato La protezione dei vostri dati personali se navigate in qualche hotspot o usate dei wifi pubblici E poi giustamente grazie al cambio di località del server vi permette anche di sbloccare tutto il catalogo di Netflix, Amazon Prime Now, quelle piattaforme di streaming Vi lascio il link in descrizione se siete interessati Attenzione perché c'è uno sconto assurdo dell'81% Con tanto di 4 mesi gratis e il gestore password NordPass se fate l'abbonamento triannale Ho già provato ovviamente ad approcciarmi alla ragazza con dei complimenti basic Ciao come va? Che bellezza! Che carina! Ma nell'ultima settimana non ho ottenuto alcuna risposta Sarà contento il nostro follower Poi però si è presentata la prima occasione per veramente attaccare bottone Infatti la nostra diva si è chiesta nelle storie Cosa fate a capodanno? Una domanda scontata che prevede risposte scontate è un buon metodo per attirare delle attenzioni E diamogliele noi queste attenzioni no? Cioè infatti le ho scritto una cosa tipo Sono indeciso tra Monte Carlo e Cortina d'Ampezzo Tu cosa preferisci? Subito faccio sentire la presenza nominando due location che comunque sono molto costose Mi sono stupito però perché non ho ottenuto nessuna risposta a questa domanda Né come messaggio privato né come domanda Probabilmente non ci ha fatto caso Probabilmente non si intende di paesaggi flex invernali Devo ammettere che ho dovuto aspettare un paio di approcci giusti Prima di riuscire a entrare in contatto con questa ragazza Finché però dopo i primi approcci fallimentari Mi si è presentata un'altra occasione sempre guardando le sue storie Chi mi porta i biscotti alla Nutella lo sposo Diciamo che non è la frase più carina che la tua fidanzata possa postare sui social media Se ci sta insieme Magari è anche una frase innocente Però io l'ho presa subito come occasione Per andare a scoprire fin dove vuole arrivare la signorina Eppure mi ha risposto in un nanosecondo La tragedia che in realtà stavamo beleffando Perché in realtà non avevamo assolutamente quei biscotti Sono introvabili Pazzesco Salve volevo chiedere se avete ancora disponibili Nutella Biscuits No siamo senza Stavo già pensando di aver fatto una figuraccia Di dover aprire un nuovo profilo Instagram Per riprovarci con questa ragazza Nei negozi questi biscotti cuor di merda non esistono Quindi diciamo che ho dovuto fare una storia anch'io E mi sono affidato alla mafia di internet Che ovviamente non ha deluso Così dopo che lo spaccio di biscotti è avvenuto senza problemi Bella per la gang la mafia di internet Nunner gang bros Abbiamo provato a reclamare il nostro premio tanto ambito dalla tipa Ma indovinate un po' siamo arrivati tardi Ma come io ho fatto il giro del mondo Per fare colpo su di te E mi stai dicendo che mi ha già anticipato qualche tizio random Pensavamo di fare colpo invece qualche schiavetto Aveva già fatto il lavoro al posto nostro Tutto questo sbattimento per niente alla fine ragazzi Da questo momento odio i biscotti alla Nutella Tutti pazzi per quei biscotti BASTA Per vendicarmi diciamo che ho deciso di trollare la gente in giro per la città Abbiamo messo delle finte buste di biscotti in giro per il paese Ed è incredibile ragazzi La gente impazziva per questa busta Appena vedevano questa busta iniziavano ad osservarla Tipo mmm attenzione C'è una busta di biscotti alla Nutella Adesso io l'osservo Questo signore addirittura ci si siede sopra Facendo finta di niente E se ne va così Biscotti volatilizzati Peccato che in realtà dentro non ci fossero i biscotti alla Nutella E volevi i tuoi biscotti alla Nutella Scherzo della biscuits Dai chiudilo chiudilo Ma questa è un po' un'altra storia Questo è un prank nel prank Abbiamo provato a farlo anche nel Castelvecchio Però un piccione ci ha sabotati E se ne pensasse Siamo stati attaccati da un piccione selvatico Oh ma che bastardo voleva i biscotti a tutti i costi anche lui Non ho mai visto un piccione così incazzato sembrava uno spiro Però comunque nel frattempo ero concentrato sulla tipa Io te li porto quei biscotti però tu devi preparare le fedi nuziali Giustamente aveva detto sposo chi mi porta i biscotti sono l'uomo perfetto Più che altro e vi siete sposati? No perché la descrizione diceva lo sposo Ah no me li ha solo portati Bugiarda bugiarda avevi promesso che gli sposavi bugiarda E invece le rispondiamo meglio così dai sarei stato geloso È perché ho cercato i biscotti solo per fare colpo su di te Davvero che dolce Quasi come i biscotti guarda Ah 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 pure simpatico Era una battuta un po' basic non capisco se sia ironica Dal vivo sono più simpatico Mettiamo le mani avanti Le battute stupide mi fanno ridere Ah ok Ma di che anno sei? Oggi mi sento 97 Mi fingo 97 Che è un anno in più in teoria del suo ragazzo E lei subito mi chiede se ho la macchina E noi ci facciamo trovare pronti Cerchiamo una bella auto in vendita da google Anzi ne cerchiamo due E diciamo una mia e una di mio padre E lei subito mi chiede qual è la tua Giustamente c'è dell'interesse così Vago vacuo Ma noi ovviamente le usiamo tutte e due Non serve nemmeno specificarlo Ma soprattutto Quale uso per venirti a prendere? Così da Realflex Se un giorno sono libera puoi portarle tutte e due Questa frase è totalmente sbagliata Già mi sembra esagerato dire portarle tutte e due Ma soprattutto come faccio due macchine? Cioè mi divido come con le biciclette? Non lo so Ma soprattutto cosa che ho chiesto anche a lei Libera in che senso? No perché se qua stiamo già pensando a essere single E niente proprio sul momento in cui con un trick Ho provato a capire le sue intenzioni Ho messo lì la domanda tattica Per capire se lei si ritenesse single Fidanzata, impegnata, sposata Però lei è scappata Non ha lasciato dichiarazioni e non mi ha più risposto No comment! Ragazzi è passato solo un giorno Dal nostro approccio alla ragazza Ma devo dichiarare la fine inaspettata del prank Infatti stamattina mi sono svegliato con Dei messaggi da parte del fidanzato Che ieri avevo avvisato della situazione Tyler ho litigato con la tipa Perché non sono riuscito a tenere il segreto E l'ho obbligata a dirmi Chi cazzo le ha portato i biscotti l'altra sera? Ti ringrazio per l'aiuto ma ci siamo già lasciati Non mi interessa continuare a stare con una bugiarda Approfittatrice Purtroppo il nostro complice non si è contenuto È partito lui all'attacco Ha fatto tutto da solo Non ho fatto il tuo nome Non ti ho messo in mezzo Mi sono solo rotto Grazie per l'aiuto ma per me ha posto così Non voglio insistere Il nostro complice ha deciso così Di abbandonare Temptation Island Temptation Social Non ha voluto completare il suo viaggio nei sentimenti No vabbè ok basta A volte capitano situazioni del genere In ogni caso a me sinceramente la ragazza ha sempre dato la vibe di essere una che appunto se ne approfitta Magari a volte i ragazzi fanno i furbetti per arrivare a incidere con le ragazze diciamo D'altro canto però le ragazze sanno essere anche molto subdole Quando fanno questi giochetti di potere La classica tipa che riceve sempre mai che deve Esistono tante bisogna fare attenzione O le sai gestire bene Oppure ti trovi legato in queste situazioni veramente districate E niente ragazzi purtroppo questo è quello che ho ottenuto in questa settimana di pranking Nell'arco di qualche giorno sono riuscito ad arrivare a tanto così dalla verità Dalla soluzione dal prankone Di solito queste cose le tiriamo avanti anche per dieci giorni due settimane Devo ammettere che sto rosicando perché ero molto carico e la situazione stava diventando interessante Vi invito a scrivermi le vostre storie le vostre richieste nei messaggi privati In modo da poter sorteggiare altre coppie da distruggere Però bisogna arrivare fino in fondo ragazzi Perché adesso facendo un video a settimana non è che posso stare giovedì Che dico vabbè sto giro non ha funzionato sto senza Cazzo In ogni caso lasciatemi nei commenti se avete mai vissuto delle situazioni simili Tra l'altro il prossimo giovedì è il 26 un giorno dopo Natale Magari potrei portare un video speciale Fatemi sapere nei commenti cosa vi piacerebbe vedere Dal 2020 ci saranno anche dei format diversi ve lo dico Che non potete prevedere Per adesso dobbiamo accontentarci Però dai tutto sommato mi sono divertito Da Tyler Strikes è tutto ragazzi vi auguro a tutti un buon Natale Noi ci vediamo al prossimo giove video Oh